Una compilation sola al comando La prima raccolta dei Queen, Great States, doppio vinile è uno di quei titoli che vendiamo sempre e comunque eppure di compilation il mondo è pieno tutti gli artisti più importanti dagli anni 60 agli anni 90 hanno fatto le compilation eppure ragazzi, ditemi quello che volete la prima raccolta dei Queen le batte tutte a livello di vendite se le mangia tutte la mia domanda è qual è il motivo? dipende forse da Freddie Mercury? dipende dalla scaletta? dipende dalla band che è leggendaria? ditemi la vostra perché vi assicuro, vi assicuro è la compilation più venduta di tutte in assoluto e si parla di vendite ma anche se uscire sarebbe la stessa cosa e cambierebbe poco e niente dai, tanti like e voglio i vostri commenti sotto ok? ciao